Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di Tivusiti, in apertura sempre l'emergenza sanitaria, ancora un duro attacco del governatore della campagna De Luca al commissario Figliuolo. In campagna disposta la proroga per l'obbligo di mascherine all'aperto, abbiamo chiesto ai cittadini torresi cosa ne pensano. Spazio poi alla cronaca con l'operazione dei carabinieri, 17 arresti per spaccio e associazione mafiusa tra Napoli e Caserta. In chiusura il caldo torrido di questi giorni riprende il tour di Tivusiti per stabilimenti balneari e spiagge. Questa mattina con le nostre telecamere siamo stati in zona La Scala. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Ieri pomeriggio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato pesanti dichiarazioni alla stampa sull'emergenza sanitaria. Il governatore ha iniziato con un appello ai cittadini che ancora non hanno ricevuto il vaccino. Gli hub sono lì, hanno erogato un servizio francamente straordinario ai cittadini di Napoli ma oggi non abbiamo i cittadini che partecipano alla campagna di vaccinazione. Ed è veramente un peccato oltre che un atto di grande irresponsabilità perché come sappiamo la variante Delta aggredisce sia chi ha fatto la prima dosi a maggior ragione chi non ha fatto nessun vaccino. Colgo ancora una volta l'occasione per sollecitare fortemente i cittadini di Napoli a partecipare alla campagna di vaccinazione. Mi rivelo qua ai ragazzi in particolare. Siamo a fine giugno. Chi si va a vaccinare in questa settimana con Pfizer può fare il richiamo l'ultima settimana di luglio. Quindi può andare a farsi le ferie tranquillo anche ad agosto immunizzato. E quindi faccio appello ai ragazzi perché vadano a vaccinarsi in massa. Altrimenti, lo ripeto per l'ennesima volta avremo un mese di ottobre che sarà un inferno. Duro attacco al commissario Figliuolo per quanto riguarda il caos sui vaccini. Quello che non ha funzionato è una comunicazione nazionale demenziale. Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere lì che ha parlato ieri, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su AstraZeneca hanno dato dieci comunicazioni diverse. Come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui. E quindi in questi casi o si dimette il commissario o si dimette il ministro della salute o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa che sarebbe la cosa migliore. Dunque, quella comunicazione demenziale ha determinato un rallentamento drammatico e una crisi di fiducia in milioni di cittadini. Poi, per l'amor di Dio, ci sarà anche una componente di scarso spirito cifico, di qualche componente di furbizia, tutto quello che si vuole, ma il punto di svolta è stato determinato da quella comunicazione. Tutta Italia dice Dio alla mascherina all'aperto, tranne la campagna. Il presidente De Luca ha deciso di prorogare l'obbligo per altre settimane. Quasi tutti i torresi, tuttavia, hanno accettato la scelta del governatore, ritenendola un'utile precauzione. Mascherine eliminate in tutta Italia, tranne che in campagna. Cosa ne pensa? Deve essere così, deve essere così, perché l'ignoranza è troppa, specialmente in campagna e a Torre del Greco soprattutto. Io non mi posso vaccinare e quindi che faccio? Contro il delta che faccio? Mi devo mettere per forza la mascherina. Se trovo qualcuno che non la porta, mi può infettare. Ci vuole prudenza, ci vuole prudenza. Quindi è consigliabile ancora attendere un po' di tempo e poi provvedere. Sono d'accordo, devo dire la verità, l'avrei messa comunque, perché non mi sento tranquilla. Perlomeno quando la toglieremo tra un mese, io la metterò nei luoghi più frequentati, la metterò nei mezzi pubblici specialmente, perché no, io penso che sia meglio aspettare un po' perché la variante normalmente dove doveva andare? In campagna. Non ci facciamo mancare niente, speriamo bene. Mascherine eliminate in tutta Italia tranne che in campagna, cosa ne pensi? Una stronzata. Chissi stanno aiutando tutti qua, non hanno capito niente. Chissi a ottobre ci fanno mazza a capelli breve. Stanno distruggendo il mondo con queste vaccinazioni un giro di miliardi, stanno avvelenando il popolo. È ottimo che è rimasto in campagna. Bene che ci sia, bene che ci sia. Rapplicato in tutta Italia. Il provvimento di De Luca, quindi è ancora valido secondo voi? Secondo me è valido in quello che fa a livello di azioni, diciamo che almeno si muove, dato anche la nuova, come si chiama, la nuova variante Delta. Qua bisogna stare ancora attenti, insomma non bisogna abbassare la guardia, anche perché i numeri ci stanno abbassando in questo momento. Nella vostra regione com'è la situazione? La nostra regione è già un po' più, diciamo, difficile, però insomma è buona. Chi lo sa meglio lei, dire bene. A Verona i contagi sono alti o la situazione è sotto controllo? Sotto controllo, però la mascherina era meglio tenerla anche là. Per me è una cosa positiva perché in realtà forse è meglio un po' di cautela in più, perché le decisioni precedenti forse erano buone. Quanto ho potuto capire dall'ordinanza di De Luca non sembra proprio così, ha scritto esattamente la stessa identica cosa che ha scritto il ministro Speranza, quindi in teoria sono praticamente da indossare solo in luoghi di assembramento o negozi o eccetera eccetera. Sei d'accordo o pensi che sia una forma di misura estrema, ancora molto drastica? Ma sicuramente la prudenza non è mai troppa, però visto il caldo, perché ragazzi diciamoci la verità, si muore, secondo me si può toglierle tranquillamente quando si è soli in una zona, cioè non vedo tutto questo pericolo se si è soli. Tu sei d'accordo a portare ancora la mascherina o la vuoi togliere? Sì, io non metto il toro, io sempre metto sopra. Penso sia giusto ancora così, almeno soprattutto qui in questi posti affollati. Io per esempio la porto, non la indosso tranne che nei momenti in cui c'è affollamento. Stiamo andando al mercato, al mercato la indosserò sicuramente. Sinceramente sono d'accordo, perché qui le persone sono ancora piuttosto scettiche oppure sono incoscienti, non so come dirle, quindi è meglio che stiamo ancora un po' così. Ci sono ancora tante persone che non si sono vaccinate e quindi forse è meglio tenerle ancora un po', sì fa caldo, mi rendo conto, però... Quindi il presidente De Luca secondo lei ha fatto bene, è ancora in forma di estrema prudenza oppure è troppa? Io non sono completamente d'accordo con quello che dice in generale il presidente De Luca, però forse in questo caso, visto che ancora ci sono molti incoscienti in giro o molti scettici in giro, forse va bene così. Se anche il presidente De Luca non avesse imposto questa cosa, comunque avrei continuato a portarla alla mascherina, perché sono ancora un po' spaventata sinceramente. Ho visto anche casi vicini a me, sono piuttosto gravi e quindi preferisco comunque aspettare. Alle prime ore del mattino a Napoli, Benevento, Acerra, Pomigliano d'Arco, Castello di Cisterna, Casa Marciano, Castelvolturno e Liscate, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, a carico di 17 soggetti, di cui 14 destinatari di misura in caccia, 1 di arresti domiciliari e 2 di obbligo di presentazione all'APG, poiché gravemente indiziale a pari o titolo di favoreggiamento personale aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi comuni e da guerra. L'indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, sotto la direzione della DDA di Napoli, era stata originariamente avviata a seguito della latitanza di Salvatore Calabria, esponente apicale del crancamoristico De Sena, operante in Acerra, il quale, resosi irreperibile all'indomani della condanna all'ergastolo e delle missioni nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione all'omicidio di Giovanni Sodano, alias Ociucciaro, vittima di agguato camorristico avvenuto da Acerra in data 1 dicembre 1996, già esponente di Vettice del contrapposto cramma di Nilo di Acerra, veniva infine tratto in arresto nel marzo 2015. Era stato infatti individuato a Roma mentre si trovava seduto ad un tavolino di un bar, in possesso di una carta di identità e di una tessera sanitaria contraffatte, nonché di quattro telefoni cellulari altrettante schede SIM fittiziamente intestate ad altre persone. La quasi totalità delle utenze telefoniche impiegate dagli indagati erano intestate a cittadini extracomunitari, evidentemente al fine di eludere indagini che gli stessi ritenevano di poter subire a proprio carico da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, gli incessanti accertamenti svolti hanno permesso di identificare gli effettivi utilizzatori dei numeri monitorati, come nel caso, ad esempio, di uno dei fiancheggiatori del Calabria, allorquando in occasione dell'arresto di quest'ultimo da parte dei carabinieri veniva trovato in sua compagnia. Non solo, il predetto immediatamente dopo l'arresto dell'attitante effettuava delle conversazioni telefoniche in cui dava l'annuncio e commentava l'evento. Finiva così la fuga del ricercato, il quale per diversi mesi si era sottratto alla cattura avvalendosi di persone di fiducia che gli avevano garantito supporto economico-logistico, impantinimento della propria rete di contatti e gli spostamenti necessari. A tal proposito, uno degli indagati, interfacciandosi con la compagna dell'attitante, contattava quest'ultimo alla ricerca di denaro utilizzando termini criptici. Ed ancora, tramite le utenze in uso ai propri fiancheggiatori, il Calabria riusciva a fornire indicazioni operative ai propri sodali. Inoltre, seppur in termini contenuti, Calabria si lamentava della condizione in cui si trovava e degli accorgimenti che stava adottando, confidando tuttavia anche nel fatto che con il trascorrere del tempo, a suo dire, sarebbe riuscito ad evitare la cattura. Le indagini oltre consigliere di assicurare la giustizia dell'attitante di individuare le persone che, con ruoli diversificati, avevano fornito supporto logistico ed economico al fine di agevolarne l'irreperibilità, hanno permesso anche di disarticolare due distinte organizzazioni criminali, dettite al traffico di cocaina e crack, attive principalmente nei comuni di Pomigliano d'Arco e Acerra. Erano infatti emessi dei contatti telefonici tra le attitante Calabria di un soggetto, il cui monitoraggio telefonico aveva fatto emergere l'esistenza di una piazza di spaccio attiva nel comune di Pomigliano d'Arco e diretta da Ferretti Salvatore. Spesso i vari membri dell'organizzazione, dialogando con i propri acquirenti, utilizzavano termini criptici per indicare la sostanza stupefacente. Veniva inoltre rilevata la rottura tra Ferretti Salvatore e il suo sodale ed il passaggio di quest'ultima ad un'altra organizzazione, che permetteva di cristallizzare l'esistenza di un'ulteriore piazza di spaccio attiva da Acerra e diretta da Finito Ciro, alias Nasegane. Nelle fasi che avevano contraddistinto tale spaccatura era emessa chiaramente anche una circostanza in cui Ferretti Salvatore, armato di Kalashnikov, accompagnato dal fratello Agnello, a sua volta in possesso di una pistola, insieme ad altri componenti del gruppo di criminale, si erano messi alla ricerca del traditore senza tuttavia riuscire a rintracciarlo. Giorni di caldo torrido a Torre del Greco. In questa settimana le temperature hanno sfiorato spesso i 40 gradi e l'aria umida non fa che peggiorare la situazione. È quindi più che normale che tanti torresi non perdano occasione per un tuffo in mare. Questa mattina, nonostante siamo ancora ad inizio settimana, in molti hanno approfittato il tratto costiero in zona scala per combattere l'arsura. Qualcuno si sistema come può sugli scogli vicino alle giostrine, altri più organizzati hanno occupato la spiaggetta libera, altri ancora hanno scelto la comodità dei lidi della zona. Per tanti anziani invece basta trascorrere qualche ora all'ombra approfittando dell'aria fresca che arriva dal mare. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione-tvcity.it o chiamando al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS.